Ciao a tutti da un salutatore, eccomi qui l'ora legale di Nina Perna, poi Michi, Giusino, ecco qui Cornel, Michele Criss, Ilaria, Noemi Blond, Gianluca Terasi, Gianluca Russo, Alessandro Gerardi, Roberto Landori, Lachi, Gianluca Liani, Maria Cristina Personante, Grazie Antonino. Un saluto a tutti i telespettatori, da un vero legale di Nina Perna, condotto da Michi, Giusino, e il giornalista Gianluca Russo. Ciao, salutatore del blog, grazie, complimenti per tutto. Grande l'ora legale, non mancate tutti i lunedì alle 23.20, canale 17 del Lazio, in tutto il mondo, ordetv.it. Ciao!